... Colonnello Salvatore Tramis, comandante del nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanze. Siamo qua a Gizzeria per l'undicesima edizione del premio Cavosuvero. Buonasera, grazie. Sono il colonnello Salvatore Tramis, comandante del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Catanzaro della Guardia di Finanza. A nome dell'amministrazione ringrazio per l'invito. La Guardia di Finanza è il nucleo nello specifico che io comando, è impegnato nella tutela e nella garanzia della legalità economico-finanziaria a livello provinciale e a livello distrettuale per quanto concerne il contrasto alla criminalità organizzata ed economica. Grazie a tutti.